In commercio esiste inoltre Editouch, il primo tab studiato per un apprendimento facilitato a scuola. Esistono modelli diversi con caratteristiche e software specifici in base al livello di studio più adatto. In particolare Editouch Primaria è lo strumento più adatto per i bambini con IES e DSA della scuola alimentare. Il bambino può leggere, scrivere, risolvere problemi matematici, geometrici, studiare e memorizzare i concetti. Troviamo anche un lettore di libri digitale in italiano ed inglese, un diario dei compiti parlante, una calcolatrice vocale, un programma di mappe concettuali molto intuitivo. Editouch ha anche vocabolario in italiano ed inglese parlanti, una tastiera parlante e un autoprolettore, un programma di analisi logica e grammaticale e molto altro. Grazie all'utilizzo di strumenti più mediati come i tablet, i bambini hanno un accesso più facile e immediato rispetto all'uso del PC. Editouch può essere d'aiuto anche a tutti gli altri studenti, perché facilita lo studio oltre a rendere i bambini con diuresia più autonomi e sereni. Si può acquistare attraverso il sito e-commerce storedigitaldifferent.it o anche tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione.